sette come i giorni della settimana sette come i chakra ma soprattutto sette sono i giocatori stranieri che questa sera visto che italiani non ce ne sono giocheranno con i colori rossoneri sotto le loro maglie delle nazionali e di chi stiamo parlando adesso lo scopriremo così come sono sconvolgenti le dichiarazioni che sono state rilasciate dall'ex ct della nazionale femminile la bertolini che veramente mi sembra qualcosa di assurdo che stia cavalcando la stessa onda del caso che già vi ho narrato qualche giorno fa nell'approfondimento del canale rubiales ermoso e dunque c'è anche una sorpresa per questa sera in quel di san siro tra italia ucraina e tutto questo lo scopriremo sempre e solo dopo che metti un bel like e se ancora non ti sei iscritto al canale e ci stai girando attorno fanno perché questa è la vera tribù rossonera e dunque buongiorno cari amiche cari amici fratelli e sorelle rossonere di qui di là e di ogni dove buon 12 di settembre a tutti a tutti e bentornata e bentornato qui sul canale del marietto milanista ebbene avevo iniziato dicendo che sette sono i giocatori rossoneri stasera impegnati con le rispettive nazionali teo ernandez e mike mignon che tra l'altro per via precauzionale non so se giocheranno l'amichevole questa sera alle 21 a dormun contro la germania del nostro malik ciao dall'altra parte e mentre in glasgow in scozia alle 20 alle 19 45 ci sarà il nostro fikaio tomori contro la scozia insieme alla sua inghilterra noa okafor con la sua svizzera giocherà in casa siona alle 20 45 per le qualificazioni euro 2024 contro andorra sicuramente uno staterello stile san marino quindi dovrebbe in teoria la svizzera asfaltarlo infine i nostri due ammargani christian pulisi che yunus musà che questa sera anzi questa notte orario italiano due e mezza giocheranno contro oman oman a man la napoletana oman stati uniti oman a minneapolis un amichevole speriamo che vada tutto liscio come l'olio e andiamo a vedere un attimino questi giornalaci che stamattina hanno aperto ovviamente come già avevo io chiuso ieri la giornata con il video su pogba non ci può credere tutto juve sport è allucinata pogba facci capire c'è poco da capire se sei positivo al test del testosterone non è che c'è tanto da capire metaboliti del testosterone rilevati dopo il match di udine il polpo sospeso il club attende le contraanalisi ma si riserva mossa proprio a tutela non esclusa la risoluzione del contratto pimenta paul non ha mai voluto infrangere le regole insomma vabbè in ogni caso magari è un uomo molto testosteronico no quindi non è che c'è bisogno non è che c'è bisogno di pompare su ste cose bello poi no le no limits grandissimo il nostro diokovic numero un in assoluto per me del tennis il mio grande idolo tennista ventiquattresimo slam diokovic infinito cosa che negli ultimi tre anni tanto infinito non era è che l'avete bacchettato per delle sue decisioni da persona che usa il proprio cervello e soprattutto choice fa le sue scelte e invece è stato bacchettato per le sue scelte e ha dimostrato di essere un campione dentro e fuori dal campo oltre i record è un esempio per tutti i giovani tennisti rampanti e non solo anche per gli esseri umani pensanti l'omaggio a cobe l'ossessione di imitare l'avero bla 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 non ci interessa poi san siro pensaci tu e c'è barella in tutto juve sport la che fa allo da post bisogna vincere per scongiurare il rischio spareggi milano è pronta a spingere gli azzurri spalletti cambia locatelli in regia e difende donnarumma sì già l'abbiamo sentito gigio l'italia vale doppio qs il corriere dello sport de roma ecco la novità che c'è questa sera e che non è stato convocato sandrino tonali quale sarà la ragione per l'impatto di san siro beh ma allo stesso tempo l'avrebbe potuto fare con donnarumma romagnoli tanto in panchina quindi non è che ne frega più di tanto anche il modo come se n'è andato fondamentalmente è stato lieve anche perché aveva deciso di di scegliere la sua squadra del cuore la lazio quindi non è che ci siano stati chissà quali polemiche con romagnoli non c'è niente sandro ovviamente è stato un po il crocevia di quest'estate per tante decisioni anche prese a livello societario mentre gigio donnarumma sappiamo tutto tutti quello che è ma non ho voglia di continuare con parolacce blasfemia cerco di mantenere una linea più educata possibile facciamo l'italia apre il corriere dello sport con un luciano spalletti in mezzo ai suoi ragazzi dietro san siro 20 45 rischio playoff scossa spalletti più voglia giocano zaniolo e raspadori con immobile pogba e doping juve shock il francese positivo testosterone nelle analisi del 20 di agosto polso speso ora rischia addirittura quattro anni di squalifica io pensavo ieri quando avevo fatto il video pomeridiano che fosse uno a sorpresa milan chukueze nel derby pioli prepara la staffetta con pulisic che ovviamente tornerà dopo neanche due giorni dagli stati uniti è probabile che ci possa essere davvero una staffetta con chuku chuku e l'imprevedibilità del nigeriano un'arma in più a gara in corso in zaghi conferma lautaro tauram coppia d'attacco in champions toccherà ad arna che vuol dire arnautovic ovviamente ma passiamo alla gazzetta interista dello sport incubo pogba in grande stop dopo il controllo doping come già vi ho detto tutti ne parlano quanti guai infortuni a catena il caso distorsione che flop il suo ritorno effettivamente è stato proprio un flop questo ritorno in italia del polpo rischia quattro anni causa testosterone bla 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 in alto azzurri niente scherzi come si vede un raspadori che fa il salto in alto sul sullo stadio di san siro e di lato attenzione sabato intermina cominciamo la pompatina amici per il derby le telefonate lautaro già me lo vedo perché tra di loro già mi vedo lautaro e turam pulisic e loftus dall'altra lautaro che chiama e l'autaro come stas e colega amico compagnero ha jugato bien e mira che temo che marcar hai un golazo contro il megnone contro tu compagnero de selezione no vemo eh guapo dell'altra parte invece c'è pulisic e loftus chic no che uno è della nazionale americana l'altro è della nazionale inglese hi my friend how are you all it's okay i waiting now in two days when i come back to milan for the derby enjoy my bro ecco dall'altra parte sapete ci sono tutti questi giochetti plim plum 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 tra loro perché la gazzetta dello sport lo sa queste cose loro lo sanno perché ovviamente loro hanno i microchip nei loro cellulari e la notizia però al di là di questo perché sul milan sembra rientrato l'allarme teo hernandez lo stesso megnone tutto a posto girù adesso dovrebbe tornare in teoria per vedere un po qual è la situazione ma sono tutte notizie fuffa la cosa che un po mi ha non stupito perché ormai in quest'epoca veramente dove tutto va al contrario e le dichiarazioni della bertolini che ha fatto una grandissima figura di m negli ultimi mondiali femminili dice visto che è stata esonerata ed è arrivata al suo posto andrea soncin reduce comunque da una larga e lunga trafila nel settore giovanile del venezia praticamente la milena bertolini che cosa combina ha rilasciato al corriere della sera un'intervista dove tira fuori questo discorso tipico femminista no che veramente già ne parlavo l'altro giorno nel del caso rubiales qua con la hermoso è qualcosa di allucinante come si voglia sempre spostare l'attenzione sulla politica su quel met bacio quel besito quella cosa che è stata data tra rubiales hermoso l'hanno fatto diventare una questione di stato in spagna invece di celebrare il mondiale vinto dalle ragazze nella coppa del mondo e dunque lei continua su quest'onda dicendo ovviamente auguro a soncini in meglio ma andava cavalcata quell'onda positiva sento dire che questo è l'anno zero e però dice se andiamo avanti in questo modo torniamo al patriarcato cioè far allenare una squadra da un uomo così come succede guns per esempio con le le donne allora qua c'è un discorso poi un problema allora dove è oggi dove sono oggi le donne negli staff della serie a femminile forse il 10 per cento siamo considerati immagine le quote rosa devono diventano necessarie allora cara la mia bertolini allora qui non è un discorso di allora questa domanda voglio rivolgerla a voi alla community che penso che la cosa migliore è sempre più che dare dei giudizi e ragionare sulle cose allora quanto muove il mondo del calcio femminile e quanto muove il mondo del calcio maschile e soprattutto la domanda ve la rigiro in un altro modo anche a voi femminucce cioè però bisogna essere onesti e oneste in ciò che si dice quanto veramente ti ti appassiona vedere una partita faccio un esempio derby sabato milan inter maschile o un derby milan inter femminile onestamente allora il calcio femminile lo si sta pompando sempre e solo per una ragione per questi discorsi ideologici ci sono cose nella vita che vanno guadagnate con il tempo non escludo che da qui a cent'anni potrebbe diventare qualcosa di più però non è una questione di patriarcato di maschilismo cose del genere posso essere anche ragione ma posso dargli anche ragione a che si possa anche dare alla nazionale femminile una ct donna però il problema è un altro il problema è ma chi realmente segue queste partite chi realmente è un ultras di una squadra femminile cioè è la stessa cosa vale come nell'nba americano piuttosto che che ne so io in nel tennis adesso noi abbiamo visto di okovic abbiamo visto i sinner abbiamo visto al caras ma mi sapete dire una donna tennista mi sapete dire realmente una calciatrice vera l'altro giorno vedevo qui un video di youtube di un di uno youtuber spagnolo che è proprio alle femministe le le ribalta ed erano andate a manifestare a madrid contro questa situazione che si è scatenata politicamente per una frangia che ovviamente è la frangia della sinistra più radicale radical chic con a capo i loro movimenti bellini bellini colori arcobaleno e rosa e violetta cose loro non non certo mi riguardano ognuno è libero di manifestare quel che pensa però la cosa bella è che durante questa manifestazione questo ragazzo è andato lì con tre nomi aveva messo tre fotografie e tre nomi di donne che vi dico sono tre porno star ok allora è andato in mezzo a questa piazza dove c'erano tutte queste femministe a favore l'hermoso destra sinistra mettendo queste tre foto e dicendo mi sapresti dire il nome di ognuna di loro e gli metteva questi tre nomi delle porno star dice allora questa qui secondo te come si chiama tra questi tre nomi non posso dire no perché ovviamente poi chi lo vuole vedere me lo chiede in privato e io gli dico dove perché comunque a che vedere con il no por ok siamo capiti mondo a luce qui bisogna stare attenti come si parla allora gli ha messo queste cose e praticamente è andato queste qua dicevano no questa nomi me suena mi sembra che questa si chiama così questa si chiama cosa questa si chiama cosa ed erano tre nomi di porno star e lì c'erano le foto di tre giocatrici nazionale spagnola e nessuna ha detto ma guarda che questo è il nome di una porno star non è no cioè facevano la parte come se sapevano nessuna conosceva niente erano lì semplicemente per una questione ideologica di questa follia femminista e alla fine non solo questo perché poi era stata fatta anche un'altra domanda c'è il giorno della donna la festa della donna allora lui è andato lì e prendeva delle persone a caso e dice adesso con 20 euro in mano devi fermare almeno tre persone e chiedergli quando è il giorno dell'uomo cioè c'è il giorno della donna la festa della donna quando è la festa dell'uomo allora neanche loro lo sapevano perché tutti sanno che cos'è il l'otto marzo no la festa delle donne allora andava domandando questo con le 20 euro in mano no diceva beh ferma questo ferma questo ferma quello ferma quello dice mi scusi mi scusi e tutti domandavano ma quando è la festa dell'uomo e nessuno sapeva rispondere però la festa della donna la conoscevano tutti ve lo dico per chi poi per chi non anzi ve lo chiedo anche a voi quando è la festa dell'uomo senza che andate però siate onesti senza che andate a vedere nel in google e compagnia bella perché io sono sicuro al cento per cento che manco voi lo sapete però la festa della donna lo sanno tutti quindi come vedete cioè tutto ciò che vogliono montare dietro anche al calcio è semplicemente qualcosa di ideologico le quote rosa destra sinistra ma nel mondo del lavoro allora al di là delle discriminazioni ci sono discriminazioni anche contro uomini i 6.000 uomini che sono e più morti nei cantieri per creare gli stadi in qatar erano tutti uomini però non mi sembra che abbiate manifestato per questa uguaglianza di cui parlate tanto care femministe o coerenza o zitte mute fate più bella figura detto questo noi ci rivediamo un prossimo appuntamento avete visto io questa settimana per questioni personali per questioni mie sto evita evito di fare delle delle live anche perché ho bisogno del tempo per riflettere su determinate cose e quindi faccio solo dei video e ci vedremo venerdì sera direttamente in live con col fratello lo stroppa dell'urlo milanista e anche con altri componenti del canale abbonati per questa chat dinamica del pre milan inter inter milan il sabato ci sarà la consueta live reaction post partita poi ci sarà sull'urlo anche il il resto diciamo proprio il post partita però questi giorni mi servono per riflettere su determinate situazioni che si sono venute a scatenare in queste ultime settimane e onestamente non sto neanche partecipando tanto nei social quindi nei gruppi anche perché onestamente sono un po stanco di stare troppo appresso a queste cose e sto dando tanto e sto ricevendo davvero poco perché ci dedico molto tempo a queste cose quindi non escludo che io possa fare un passo indietro in questa cosa e successivamente vi dirò quale decisione prenderò in merito perché c'è molta pressione c'è molta pressione nel fare lo youtuber da tante parti da parte proprio del tubo da parte di chi segue da parte di tante situazioni e sinceramente ho bisogno di riflettere su determinate situazioni quindi io continuo ovviamente però questi giorni probabilmente prima del derby sono necessari per per fare un po come si dice la quadra no della di tutto ciò che 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 si è dovuto affrontare in queste settimane e quindi non escludo anche dei cambiamenti non dico radicali però importante in certe cose e e quindi niente comunque per chi mi segue che mi vuole bene sa benissimo già che io sono una persona molto trasparente chiara e quindi le cose le dico così non è che dall'oggi al domani vi trovate qualche sorpresa vi sto semplicemente un po preparando il terreno a dei possibili cambi che ci saranno quindi io vi auguro una felice giornata do un bacio a tutte le amiche un forte abbraccio a tutti gli amici un bel a tutta la tribù a uga 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 sempre forza milan ovunque e comunque e noi ci vediamo qui a un prossimo video programma ciao